Ma ha colpito molto questa cosa che ritorna in questo ricordo di Paolo Rossi, il pallone, non il calcio, il pallone come gioco, i bambini che sono referenti, il calcio che è un gioco non è solo un business, allora io infatti ho cercato di ricordarlo così, se la regia riesce. Eccola qui, Diego, Pablito, a voi la palla, che sia il pallone, il gioco del pallone, il gioco di tutti i bambini, credo che forse questo, per me almeno, che non sono neanche un tifoso, è il modo migliore per ricordare tutte e due.